Per me scrivere è spogliarsi, è togliersi la corazza del nostro nome e cognome, è essenza dell'anima, è toccare la carne più delicata che abbiamo dentro di noi, è sdraiarmi sul lettino dello studio di uno psicanalista, è mostrare fragilità, incongruenze, paure. Insomma, per me scrivere è intimità e dunque verità. Le parole tagliano, accarezzano, consolano, danno concretezza e sentimenti, li rendono materia e per quanto mi riguarda ti mettono allo specchio. Scrivere per me è stata sempre anticamera di fatica interiore, perché ogni volta che prendo la penna in mano so che alla fine dovrò fare uno scatto in umanità, superare le poltrone del facile per vedere al di là delle montagne del vero.